Misserino Miele, risultato importante, l'aveva raggiunto la finale, avete sofferto, però alla fine ce l'avete fatta. Tappa importante questa, questa semifinale contro il Mirabello? Sì, beh fondamentale insomma, anche se devo dire che questi ragazzi da un mese a questa parte stanno intensamente soffrendo perché siamo andati incontro a degli infortuni consecutivi, insomma, siamo arrivati a giocare senza 4-5 titolari che ci avrebbero dato una grossa mano, da un mese che i ragazzi stringono i denti e reagiscono. Adesso ci aspetta la finale, adesso riposiamo, lavoriamo come abbiamo sempre fatto in questa settimana per farci trovare pronti. Quando vi ha aiutato questo campo, questo nuovo campo per raggiungere questo obiettivo importante che è la finalissima? Tanto, io ho parlato con la società, ho detto che il campo era fondamentale perché noi siamo una squadra comunque votata al gioco, è difficile che si possa buttare palla e avevamo bisogno di un campo di questo tipo insomma e come sempre la società ci è venuto incontro, ha fatto grandi sforzi, grandi sacrifici e quindi insomma questa vittoria è anche merito loro.